Bruce, a golden Bradley, and then our double album, hit a double one-way. Sì, è stato un incontro straordinario sia per lui che per noi naturalmente, soprattutto per noi, perché ci ha portato stamattina la poesia più forte, più riconoscibile, più veramente straordinaria, in un certo senso, che si può trovare in questo momento non solo in Europa ma nel mondo, direi. E oggi e stasera ci ha portato invece una grandissima ventata di blues, di rock, di folk, anche con il Black Cat Trio, che sono un gruppo della zona fenomenale, che si sono trovati con i quali Maldun si è trovato subito in sintonia e con una sola prova sono riusciti a portare a casa questa serata, riuscendo addirittura ad arrangiare i suoi testi originali. Quindi veramente una giornata, credo, spero per tutti, memorabile e spero che ce ne possano essere altre, sempre su questa scia, sempre tra poesia e musica. Sì, siamo ormai in un periodo storico in cui certamente la canzone non si può ignorare. La canzone non è esattamente una forma di poesia, però è veramente molto simile alla poesia. Certamente lascia delle sensazioni e delle emozioni che sono particolari e quindi questo contatto, questa contaminazione tra poesia e canzone è fondamentale. E un poeta come Paul Maldun è riuscito veramente con grande equilibrio a mostrarcelo. Grazie.